ciao sono federica della punta capolibri di bergamo città alta consigli per quest'estate di lettura ho dato cinque libri poi naturalmente ne vengono in mente mille avete tempo vi consiglio la saga dei casalè date le atto questo va il volume quarto chiaramente partiamo dal primo se no se capisce e poi invece vabbè questo in realtà l'ho dato ed è nella mia borsetta al momento lui che merita aveva scritto anche un altro bel libro prima anni fa la simmetria dei desideri se non avete letto partite anche lì da quello lì un po come il casalè volume 1 lui simmetria dei desideri anche lui anche lui bello no bello bello e poi vedrete il font ha del font fantastico la keller chiedo scusa è riposante quindi anche di sera tanto che uccidete le zanzare grazie a tutti Grazie.